L'olismo è un concetto filosofico che è stato introdotto da un filosofo sudafricano negli anni 20 che postula che il valore percepito dell'insieme spesso è superiore del valore delle singole componenti dell'insieme. Ed è anche una modalità, l'olismo, che è opposto al riduzionismo. Perché ridurre la televisione ad essere solo quella del televisore o quella digitale terrestre? Perché non vederla invece come un elemento ampio di comunicazione che attraversa tutte le nuove modalità, ma per esempio la televisione olistica si può delineare in cinque dimensioni. Una è per esempio il fatto che tutti i televisori oggi sono multipiattaforma. Se vedete nel nostro stand delle tecnologie di HD Forum, vedete guardando dietro i televisori, che tutti riportano ingresso satellite, ingresso digitale terrestre, ingresso cable, ingresso IP. Ecco, questa è una prima dimensione. Una seconda dimensione è che la televisione una volta era concepita in modo caos poteto. Tu stai seduto sul divano e ti vedi una realtà lineare, un palinsesto trasmesso da altri. Oggi abbiamo capito che invece si può interagire, vedere un programma quando vuoi tu, vuoi vederlo time shifted rispetto all'evento live, lo puoi vedere anche in modalità diverse come per esempio Restart, una modalità che ben presto sarà presente nelle case degli italiani. Cioè, sono arrivato con un programma già iniziato, schiaccio il tasto blu, tolno l'inizio. Ecco, tutti questi modi di fruizione, questo multimodo di fruire la televisione, fa parte di una visione olistica del sistema. Un'altra visione è quella di andare oltre il concetto di terminale. Spesso la televisione, il televisore è stato considerato l'oggetto terminale della televisione. Ma questo vuol dire che la televisione non può andare su altri terminali? Per esempio, il sistema broadcast, che è un sistema da uno a molti, potrebbe essere molto bene utilizzato anche per mandare una televisione non planoscopica, quindi non di una superficie, ma per esempio una televisione con video tra i 60, che viene trasmessa in broadcast uno a molti, utilizzando le tecniche dei satellite, della distribuzione digitale terrestre, dell'IP, a soluzioni di terminali come per esempio i caschi virtuali. Ecco, anche questa è una visione che va oltre. Quindi, la visione olistica della TV è comprendere tutte queste dimensioni con un rapporto che va dal comunicatore all'utente finale, che lo colga laddove, quando è, quando gli pare, mobilità o no. Non dimentichiamo che le reti mobile non sono un'antitesi del broadcasting, perché se il mio utente finale è in mobilità, io gli devo dare la televisione su quegli oggetti, i tablet, i phablet, i pc, allo stesso modo, sincronica, con zapping, fast zapping, tecnologie che oggi sono presenti, ci sono, perché non le utilizzano? Eccola, che vuosi olistica.